Ogni giorno mi alzo la mattina e trovo le mie motivazioni per andare al lavoro e dare il meglio di me stesso e la responsabilità che ho nei confronti delle altre persone, della mia famiglia stessa anche, e la voglia di continuare a crescere, scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno, perché rimanere fermi è un po' la morte del lavoro stesso. Scoprire, studiare qualcosa di nuovo ogni giorno, insegna e motiva per poter andare avanti. Sono Stefano Maito, titolare della ditta Dagu SRL, siamo produttori di motori elettrici in corrente continua a spazzole. Allora, io arrivo all'interno della Dagu dal 2003, come all'interno dell'ufficio acquisti, l'ho seguito fino a questa primavera, quando c'è stata una successione i nostri soci sono usciti, per cui siamo diventati, la mia famiglia è diventata l'unica titolare dell'azienda e ora quindi mi sono spostato dagli acquisti alla direzione dell'azienda insieme a dei professionisti che mi seguono e mi ricodivano. La sfida più importante la sto affrontando adesso, nel cambiamento del mio ruolo che ho adesso, nelle responsabilità che ho, perché siamo un'azienda piccola ma contiamo 50 persone al nostro attivo, quindi sulle mie spalle, sulle nostre spalle abbiamo una bella responsabilità e anche qui in questi giorni cerchiamo di rinnovarla, di portare avanti il nostro lavoro e di continuare a crescere. Il mio hobby è il tennis, lo sci, camminare in montagna, stare con la mia famiglia e portarla a fare qualcosa di bello, che possa essere sciare, che possa essere camminare, che possa essere qualsiasi cosa a livello di sport, ma stare con la mia famiglia è molto importante.